Federico Fashion Style Gay Parlo. Bruganelli, reazione epica. Sonia non trattiene la sua reazione alle nuove dichiarazioni fatte sui social network dal famoso air stylist sul suo orientamento sessuale. Federico Fashion Style non vuole nascondersi più e ha anticipato che presto racconterà tutta la sua verità. Di fronte a questa sua presa di posizione è intervenuta nelle ultime ore Sonia Bruganelli. L'opinionista del grande fratello vi pare preso un articolo che parla di queste nuove dichiarazioni dell'air stylist si è lasciata andare a un commento epico. Nei mesi scorsi Federico Fashion Style è stato al centro del gossip per via di alcune accuse da lui ricevute. Si è parlato della sua presunta doppia vita, di relazioni parallele che il famoso parrucchiere avrebbe avuto negli anni. Ed ecco che lo stesso air stylist ha fatto ritorno sui social network, dove ha ammesso di aver rinviato diverse diffide. Non solo, ha anche aggiunto che da ora in poi sarà trasparente con il suo pubblico. Federico Fashion Style ha innanzitutto fatto sapere di aver trascorso il primo giorno del 2023 in modo perfetto con la compagnia giusta. Con lui c'era anche la figlia. Detto ciò, ha rivelato di essere ancora più sicuro di ciò che ha deciso di fare, sono felice e sto molto bene. Ha, inoltre, precisato, ed è proprio vero quando si dice si chiude una porta si apre un portone. Questo riferendosi alla fine della sua storia con la madre di sua figlia. Il noto parrucchiere ha poi spiegato. Ti accorgi delle persone che hai vicino, di chi ti utilizza per altri scopi, ma la vita non è fatta di maschere. Ma di realtà, di sapersi guardare negli occhi e di dire le cose belle e le cose brutte e a volte anche di non nascondersi. Ma di affrontare la vita come ho fatto io ho detto questo chi vuole capire capisce. Tanto chi vuol capire ha già capito ma poi non parla ma fa parlare gli altri, però anche gli altri si stanno calmando. Perché prima parlavano, dicevano e raccontavano, poi però si mettono al posto loro. Prima o poi, ma anche prima, vi racconterò tutto, ma proprio tutto, perché nella vita bisogna essere trasparenti. Dire la verità premia sempre. Dunque, Federico Fashion Style ha così promesso che presto farà chiarezza con i suoi fan. Rivelando come stanno davvero le cose nella sua vita sentimentale. L'air stylist ha dichiarato che per lui il 2023 sarà di sicuro un anno di rinascita.